Gravissimo episodio nella casa circondariale di San Cataldo. Il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Sappe denuncia infatti che un detenuto nordafricano, che era uscito dalla cella per una notifica, ha proditoriamente ed improvvisamente colpito il poliziotto che lo stava accompagnando, sferrandogli un pugno al volto di una tale violenza da fratturargli il setto nasale. Calogero Navarra, segretario nazionale SAP per la Sicilia, evidenzia che il detenuto si era già reso protagonista di episodi di violenza durante un'altra carcerazione nella casa circondariale di Enna e tutto ciò è inqualificabile e grave. Il SAP ha più volte denunciato le continue criticità delle strutture penitenziarie della Sicilia, che risultano essere veri e propri carceri di frontiera, affollate da una parte di detenuti che restano poco inclini al rispetto delle regole ed hanno tentato in più occasioni di prendere il sopravvento con la violenza. Si tratta purtroppo di una brutta e violenta aggressione annunciata contro il personale di Polizia Penitenziaria, denuncia donato Capece, segretario generale del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, che esprime solidarietà al poliziotto ferito ricoverato in ospedale. Tutto questo conclude è inaccettabile e intollerabile.